Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo ancora una volta di Loki, perché questa settimana, precisamente mercoledì, si chiuderà la prima stagione, almeno quella che sembra essere solo la prima stagione, della serie sul Dio dell'inganno. Abbiamo ancora molti misteri da svelare in questa serie, ma ce n'è uno che sicuramente è forse uno dei più importanti, se non il più importante, quello cardine. Chi si nasconde in realtà dietro la TVA, la Time Variance Authority. Proveremo ad indovinarlo oggi in questo video con 6 probabili risposte, 6 come le gemme dell'infinito. Penso sia inutile dire che questo video potrebbe contenere tranquillamente degli spoiler dall'ultimo episodio di Loki. Anche se sono solamente teorie, io non sono uno sceneggiatore della serie, è probabile che essendo 6 possibili risposte, una di queste potrebbe essere quella reale. Quindi se non volete in qualche modo forse spoilerarvi l'ultimo episodio, uscite dal video e tornate solamente dopo aver visto il sesto episodio, quindi fra qualche giorno, per vedere se ho azzeccato almeno qualcosa. Se non è sicuro che ci saranno spoiler dal sesto episodio, è sicuro che ci saranno spoiler dal quinto, perché comunque il quinto è già uscito, posso tranquillamente parlarne, però se ancora non l'avete visto, beh, ci saranno spoiler. Prima di iniziare con le possibili risposte vi invito a seguirmi su tutti i miei social, link in descrizione. Vi invito nello specifico a seguirmi su Instagram, perché più avanti in questo video vi dirò una cosa che molto probabilmente vi interesserà. Ma bando alle ciance e iniziamo subito a parlare di Loki. Le teorie di cui parlerò in questo video sono sì prese da internet, quindi non sono del tutto mie, ma sono teorie di tutti, però ho aggiunto qualcosa di mio per poterne parlare appunto. Cosa succede alla fine del quinto episodio? Il nostro Loki, assieme a Sylvie, riescono a sconfiggere incantando il villain di questo episodio, questo cane da guardia nuvoloso che faceva da protettore a colui, colei o coloro, che comandano il TVA. Infatti, dopo la scomparsa di questo ammasso di vapore, si apre un portale verso quel che sembra essere un castello, una fortezza, dove all'interno ci dovrebbe essere appunto il nostro mistero principale. Come ho già detto, le teorie di questo video saranno sei, e le ho ordinate da quella meno probabile a quella forse più probabile, che sicuramente non al 100% potrebbe essere la vera risposta. Sarò curioso di rivedere questo video, comunque ricordarlo, dopo aver visto il sesto episodio, sempre se ce lo sveleranno, perché comunque vi ricordo l'ingegnere aerospaziale VivandaVision, che non ha ancora avuto un'identità, però questo credo sia giusto un po' più importante di quell'ingegnere. Iniziamo da una teoria che ho trovato su internet, io ci ho scherzato un po' su Twitter, però c'è gente che ci crede realmente, e infatti l'ho messa all'ultimo posto. Secondo questa gente, al comando della TVA c'è Kasey. Beh, se non lo ricordate è un po' un problema, dato che è stato il comit relief della prima puntata, è giusto un po' della seconda. Ma se ve lo ricordate potete immaginare anche voi che molto probabilmente non sarà lui al capo della TVA. Però mai dire mai, magari si svelerà realmente essere lui e noi non possiamo saperlo. Secondo questa teoria, lui siccome nel cassetto ha, appunto, tutte le gemme dell'infinito, anzi diverse varianti delle gemme dell'infinito, potrebbe tranquillamente comandare tutto. E potrebbe fingere di essere così stupido proprio per non far ricadere tutto su di lui. Beh, è davvero stupida questa teoria, lo so. È per questo che l'ho messa all'ultimo posto. Sicuramente Kasey non c'entra nulla. Direi abbastanza veloce questa teoria. Passiamo alla quinta. Secondo altri fan, al capo della TVA c'è proprio Ravonna Ranslayer. Appunto, la giudice che per ora è stata come un villain per la serie. Anche questa penso sia poco probabile, dato che in questo quinto episodio, e anche un po' nel quarto, l'abbiamo vista molto dispiaciuta della scoperta che i Time Keepers, i Lucertoloni, erano falsi. E nel quinto episodio sembrava sincera nel parlare con Sylvie. Quindi credo che nonostante abbia svolto il ruolo da villain nei primi episodi, non si svelerà essere realmente lei al capo della TVA. Ma come ho detto per Kasey, che era sicuramente meno probabile di questa, mai dire mai. Passiamo a quelle giusto un po' più probabili, ma che comunque non mi convincono ancora del tutto. Infatti, secondo praticamente tutti, al capo della TVA c'è Kang il Conquistatore. Kang il Conquistatore è già stato confermato per l'MCU con il volto di Jonathan Major e apparirà per la prima volta già confermato in Ant-Man and the Wasp Quentum Mania. Ma secondo i fan complottisti, in realtà Kang comparirà nell'ultimo episodio di Loki, perché essendo comunque nei fumetti molto centrale all'argomento tempo e avendo una relazione con Ravonna nei fumetti, i fan pensano sicuramente si trovi lui in quel castello. C'è chi dice inoltre che questi colori strani che si vedono nel cielo del portale dovrebbero in realtà essere i colori del Regno Quantico, perché abbiamo già avuto in qualche modo una specie di conferma che Kang il Conquistatore si trovi intrappolato comunque viva all'interno del Regno Quantico, dato che in Ant-Man and the Wasp abbiamo avuto una vista di Cronopolis, che è appunto il luogo dove Kang vive nei fumetti. Devo dire che è molto probabile che sia Kang al comando del TVA, anche perché sarebbe giustificato l'avanzamento di livello lavorativo per Ravonna, magari Kang si è preso una cotta per lei. Ma l'ho messo comunque al quarto posto perché non credo che il Disney o comunque Marvel voglia avere la prima apparizione di un personaggio si sconosciuto al grande pubblico, ma comunque molto importante probabilmente per il futuro dell'MCU, in una serie che sicuramente non tutti guarderanno. Quindi credo realmente che la prima apparizione del personaggio sia quella in Ant-Man and the Wasp Quentum Mania. Siamo nel podio, infatti abbiamo la terza proposta. Questa è una mia idea, ovviamente non è detto che sia così, ma credo che comunque dietro alla TVA ci siano i lucertoloni, i Time Keepers. Sì, abbiamo visto che in realtà questi erano degli animatronics, quindi guidati da qualcuno. Infatti Sylvie scaglia un coltello o quel che era sul collo del Time Keeper centrale, e questo si rivela essere solamente appunto un androide. Però chi dice che in realtà quelli non erano solo dei fantocci guidati però dai Time Keepers? erano sì fittizi ma comunque ricreati sulla forma e sulla vera esistenza di questi tre personaggi. Proprio perché magari così importanti per il flusso del tempo e della sacra linea temporale, per evitare quello che poi è successo realmente nel quarto episodio, quindi perdere la testa, i tre hanno creato anche dei fantocci di loro stessi. E secondo me potrebbe essere comunque una risposta molto accreditata. Certo, i fan forse rimarebbero un po' delusi, ma sappiamo che comunque la Marvel, in queste prime serie almeno, speriamo che poi cambierà, ha preso sempre la scelta più logica e meno teorizzata. Quindi vedremo cosa succederà, perché ora passiamo alla seconda possibilità. Ma prima vi parlo di quel che ho citato già ad inizio video. Infatti vi invito ancora una volta a seguirmi su Instagram, perché questo mercoledì, oltre all'uscita del sesto e ultimo episodio di Loki, sul mio profilo, Il Pensiero di Andri, partirà un giveaway in collaborazione con Nerdpop.it. Con questo giveaway avrete la possibilità di scegliere un gadget a tema Loki tra Funko, fumetti o le Action Figure Legends. Non vi svelo ancora le grafiche perché vorrei tenerle a punto per mercoledì, però vi invito già a seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati e aspettare questo giveaway assieme a noi. Ma adesso torniamo alle teorie. Secondo molti fan, all'interno di quel castello, o comunque al comando della TVA, c'è proprio Miss Minutes. Sappiamo che è un po' la mascotte di questa serie, questo ologramma almeno, quel che ci vuole fare credere essere un ologramma, ne parliamo fra pochissimo, che funge un po' da assistente vocale per la TVA. Ha accesso a tutti gli archivi e a quanto pare ha la possibilità di fare tutto all'interno di quella struttura. Ma tornando al fatto che probabilmente non è solamente un ologramma. Ricordate il secondo episodio in cui Miss Minutes, nella parte iniziale, parla con Loki di quel che dovrebbe fare da lì a poco il dio dell'inganno? Bene, Loki gli chiede se in realtà è un ologramma oppure esiste. E Miss Minutes è un po' titubante e alla fine dice sono un po' di entrambe. Solo che Loki, per essere sempre un po' dispettoso, cerca di colpirla con un giornale arrotolato. Un ologramma non dovrebbe spostarsi, non dovrebbe avere paura di un oggetto concreto che potrebbe colpirlo. Certo, questa potrebbe tranquillamente trattarsi di una singola gag senza un vero senso da trovare all'interno. E credo sia così. Ma il fatto che Miss Minutes abbia la possibilità di fare appunto tutto all'interno della TVA, e magari questa non è l'unica forma che può prendere il personaggio, la porta al secondo posto di queste possibili teorie sull'identità segreta del capo della TVA. Ma adesso passiamo alla teoria sicuramente più accreditata e che penso sarà quella reale. Certo, ammetto che non mi piacerebbe tantissimo come risvolto finale, ma comunque è in pieno tono Marvel. Infatti è la risposta forse più ovvia. Ed è per questo che, credo, andrà così. All'interno di quel castello, e quindi probabilmente a capo della TVA, si trova un'altra versione di Loki. In questo quinto episodio hanno tenuto in tutti i modi a farci capire che quello interpretato da Richard D. Grant non fosse realmente Old Loki, bensì Classic Loki, la versione classica con il costume dei fumetti. E se appunto, come viene detto ormai da settimane, a capo di questa organizzazione malefica, almeno questo sembra essere per ora, potrebbe esserci proprio un Old Loki, un Loki che probabilmente un tempo era il Loki interpretato da Tom Hiddleston, e che diciamo ha un costume più serio, quindi molto simile a quello del nostro Dio dell'inganno, solo che con il volto giusto un po' più cattivo, per farci intuire la differenza tra il nostro Loki e questo Old Loki. Abbiamo già visto in questo episodio che il nostro Loki ha fatto un passo in avanti, imparando grazie a Sylvie l'arte dell'incantesimo, cosa che prima non sapeva fare. Magari con il passare del tempo il nostro Loki arriverà ad essere più esperto a livello magico e pian piano diventerà sempre più cattivo, magari avvicinandosi alla magia oscura. E ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto quale secondo voi di queste teorie è la più accreditata. Immagino votiate tutti per case, giusto? Comunque fatemelo sapere con un commento, perché sono molto molto curioso. Vi invito ancora una volta a seguirmi su tutti i miei social per rimanere aggiornati, e se volete partecipare appunto al giveaway di questo mercoledì per vincere o un Funko, o un fumetto, oppure una action figure di Loki. E niente ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao! Ciao!